Ben trovati cari amici telespettatori, ritorna sugli schermi di Cilento Channel la nostra cara e simpaticissima amica Milena Esposito e questa volta lo fa in veste di scrittrice sì perché sabato 16 febbraio presso la libreria Largo Libro presenterà il suo ultimo libro e quindi un saggio su Emily Dickinson il sogno del diavolo allora partiamo già da questo titolo che è davvero interessante perché questo titolo Milena? Il sogno del diavolo diciamo che il diavolo non inteso in senso satanico in senso negativo ma invece ha sicuramente una valenza molto positiva perché è il daimon che anima Emily Dickinson quindi il suo talento la sua passione per la poesia e poi perché il sogno del diavolo è realmente un brano musicale che lei suonava al pianoforte il suo preferito è una ballata irlandese che lei utilizzava molto anche per scaricare l'attenzione per divertirsi coprendo le ultime ottave del suo nuovo pianoforte e lei scriveva anche musica quindi proprio con questa musica io sono voluta partire dal titolo un demone interiore che è l'anima che le fa percorrere una vita molto particolare molto singolare quindi proprio per questo io l'ho scelta perché credo che ci possa essere un forte insegnamento per chi legge questo libro un educere forse più che un insegnamento cioè un tirar fuori di sé un riuscire a rendersi conto di quanto la poesia la buona poesia possa essere una compagna possa essere un conforto possa essere quell'amica che magari si trova lì sul tuo tavolino accanto a te sul tavolo o in qualunque situazione e ti conduce ad analizzare attraverso le sue parole quelle sensazioni tue interiori che magari da sola non riusciresti mai a fare emily ha lasciato lettere ha lasciato oltre le poesie ovviamente e anche attraverso queste lettere in questo libro ci sono tre lettere le lettere che nessuno sa a chi siano state scritte ma che sono state ritrovate a casa di emily quindi evidentemente lei non le aveva non le aveva spedite le lettere al maestro e poi si troveranno 15 sue poesie che non sono quelle più belle o meno belle ma sono quelle nelle quali io mi sono cimentata nella traduzione soprattutto comparando varie traduzioni e ricercando qualche cosa di più che è il significato della parola oltre alla presentazione del libro dobbiamo comunque anticipare i nostri telespettatori che ci saranno anche altri momenti dedicati anche a delle performance sì a seguire noi diciamo in realtà l'appuntamento è alle 17 e 30 per cercare di iniziare alle 18 puntuali quindi io vi aspetto già dalle 17 e 30 anche perché in libreria ho preparato anche alcune sorprese quindi mi piacerebbe se riuscissimo ad essere tutti quanti un po puntuali e dopo la presentazione del libro dopo averne parlato con te dopo soprattutto magari aver raccolto anche opinioni dal pubblico domande insomma dopo un incontro tra noi e il pubblico l'invito è ad andare sopra al primo piano nel salottino di argo dove ci sarà una performance teatrale è un testo un breve testo teatrale che io ho scritto e che in appendice al libro lo troverete in appendice al libro in realtà il libro era già stava già per andare in stampa quando ho pensato che fosse giusto dare proprio la voce ad emily e quindi attraverso questo monologo noi ripercorreremo l'emily bambina che parla con la mamma che parla con il padre che ha un rapporto con i fratelli che incontra per la prima volta la morte sul suo percorso di vita quando ha 15 anni e poi tutto quello che è l'evoluzione di questo bozzolo perché in realtà emily è un bozzolo bianco e bianco perché lei ha scelto il bianco come unica tinta per gli ultimi suoi anni della vita di suoi i suoi vestiti il suo abbigliamento era in total white e bianco proprio perché ho immaginato che fosse questo bozzolo di farfalla dal quale poi lei dopo la morte quindi quando quando il bruco quella larva che che ha rappresentato la sua vita quell'embrione potremmo dire così si è trasformata questa metamorfosi noi la vivremo con l'attrice giusi paolillo che ovviamente ringrazio per aver preso parte al monologo per interpretare emily come l'ho vista io con la regia della bravissima bianca rosa di ruocco e la musica celtica di antonietta di sessa i costumi sono di sony ruggiero l'appuntamento è previsto per sabato 16 febbraio alle ore 17 e 30 presso la libreria a largo libro in via le lazio 16